Musica E quindi io ti penso come? Io ti penso, ma la mente, te lo dico bene, è ma sta costantendo, per capire che sono, e ho vogliono, io ti penso, ma la mente, e ho vogliono, 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 raccontare, io di te, raccontare, tu di me, e ho vogliono, 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 e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.